Buongiorno ai nostri lettori e in questo caso telespettatori. Ancora una volta parliamo di un patto assolutamente disgustoso che ha colpito la nostra amata e martoriata Sicilia. Il patto di sangue è venuto a mascalugia, ne vogliamo discutere un attimino con un personaggio che certamente non ha bisogno di presentazione, la criminologa, psicologa, forenze, opinionista, ma io aggiungerei anche cantante, ma non è il caso in questo momento, Roberta Bruzzone. Buongiorno Roberta. Buongiorno a voi. Allora Roberta, che succede nella mente di questa donna, di questa mamma che va a scuola a prendere la propria figlia e un'ora dopo compie quel gesto insano? Succede, purtroppo, quello che succede nelle menti dei soggetti che pianificano, progettano e premeditano deliti feroci, né più né meno di questo, ho sentito in questi giorni parlare in maniera estremamente impropria di Raptus, qui non c'è nulla che possa neanche lontanamente evocare questo scenario, c'è una donna che progetta in maniera lucida tutto quanto, che quando va a prendere la figlia all'asilo, abbiamo visto tutte le immagini di questa bimba che le corre incontro, felice, e lei che la abbraccia e la bacia, in realtà ha già deciso di ucciderla e in quel momento lei ha già scavato la fossa destinata a ricevere il corpicino straziato di questa bimba, che la colpisce alle spalle, peraltro, reiteratamente, con delle ferite da punta e taglio, che non ne risparmia nulla sostanzialmente e che ha già deciso di inscenare, ancora già quando va a prendere la scuola, ha già deciso di inscenare il presunto rapimento, perché la volontà è quella di farla franca, tra parentesi, e chiaramente quella di attribuire il reato, l'aggressione a soggetti terzi sconosciuti. Quindi purtroppo quello che avviene è qualcosa di sicuramente orribile, sicuramente inquietante per la stragrande maggioranza di noi, ma per chi fa il mio lavoro è qualcosa di purtroppo assolutamente noto. Non è certamente la prima madre che progetta di uccidere un figlio, l'abbiamo visto in numerosi altri casi, peraltro caso molto noto che è avvenuto proprio in Sicilia, mi riferisco a Veronica Pannarello, anche lei ha inscenato un rapimento da parte di un pedofilo assassino, aveva fatto ritrovare il bambino senza mutandine, proprio deliberatamente, per poter evocare lo scenario di un predatore sessuale in azione, e quindi sono madri purtroppo, certamente con una personalità distorta e malevola, ma indubbiamente lucidissime, quindi capacissime di intendere di volere. Madri che dopo essere state atturate in qualche modo individuate come responsabili di questi delitti, poi inscenano confusione, non so che cosa facevo, non ero in me, una forza sovrannaturale ha preso possesso del mio corpo e sono tutte estensioni della manipolazione di questi soggetti, perché l'unica cosa di sovrannaturale è la loro capacità di mentire, l'unica cosa che possiamo considerare, diciamo, estremamente poderosa. E questo fa parte della signora, ma c'è l'avvocato, il suo avvocato che dice, la mia cliente è stata spinta da una forza naturale, non sappiamo se ridere o piangere. Io non commento affermazioni di questo genere, che sono prive di qualsivoglia pregio dal punto di vista forense, tantomeno di natura psicologica, non c'è nessuna forza sovrannaturale che spinge le persone a progettare delitti, e direi che se un avvocato a evocare questo scenario sia sufficientemente anomalo, perché sappiamo bene che non serve evocare forze soprannaturali, che tutti i giorni la cronaca giudiziaria ci restituisce storie di delitti atroci, che sono purtroppo estremamente compatibili con la natura umana, non c'è bisogno di evocare in maniera assai fantasiosa e discutibile componenti di altro genere. Concludiamo? La storia della gelosia, Roberta? È un mix qui, secondo me, di invidia e gelosia, non è soltanto un problema di gelosia. Ma può esistere questo? Sì, certo, è uno scenario di una personalità profondamente immatura, probabilmente con tratti disfunzionali mi parrebbe di capire da quello che ho sentito nell'intervento della suocera, nella nonna paterna e della zia paterna, un soggetto con dei tratti di personalità di area narcisistico borderline, quindi molto concentrata su di sé, molto concentrata a controllare la vita degli altri, ossessionata dall'idea di essere messa da parte, quindi probabilmente sì, questa componente tra l'ossessione, la gelosia e l'invidia sia in qualche modo il terreno di cultura che ha fatto poi esplodere questa terribile vicenda, insomma. Però, ripeto, considerate che questa è una donna che l'ha progettato per giorni, quando va a prendere la bambina all'asilo, la fosse già stata scavata, si è procurata strumenti per farlo, non è stato l'attimo, non l'ha scavata con le mani improvvisamente, Gesiamo, dopo averla uccisa, è tutto progettato lucidamente, tutti i vari passaggi. Quel giorno lei torna a casa facendo una strada diversa dal suo percorso abituale, proprio perché aveva già in animo di simulare il rapimento. Quindi, ripeto, non c'è nulla che possa essere anche lontanamente compatibile con un momento di discontrollo. altro che forse innaturali. Va bene, grazie Roberta. Noi speriamo di averti ad ottobre da Grigento per un mega convegno sulla criminologia. Guarda, sarà difficile perché quello è un periodo in cui ho veramente un sacco di impegni e è difficile per me spostarmi da Roma. In questo momento è così. Benissimo. Grazie, grazie per la preziosa testimonianza. Grazie a voi. Buon lavoro, grazie, buona giornata.